Siamo qui al stand Tech 21 che produce custodie per smartphone e tablet. Questo nuovo materiale da inventato a loro, come vediamo, assorbe perfettamente gli urti di forte violenza. C'è il dito, ha messo il dito all'interno del materiale e il dito non si è fatto nulla, appunto, perché assorbe la violenza. Invece con una pressione il materiale risulta morbido. Questi produttori di custodie sono appunto il Tech 21.